Mystic Falls, dove sono nato. Questa è la mia casa. E la mia. E la mia. Creature soprannaturali hanno vissuto fra noi per secoli. C'erano vampiri, licantropi, doppelganger, streghe. E anche ibridi. Ci sono coloro che li proteggono. Lo sceriffo ha un vampiro come figlia. E il nostro adorabile sindaco ha un figlio che è metà vampiro e metà licantropo. E coloro che li vogliono morti. Ci sono amici. Nemici. Le persone che amiamo. E quelle che abbiamo perso. Mette, attento! E poi ci sono io. Io sono umana. Almeno lo ero. Sì. Sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.